Buongiorno a tutti, io sono Chiara Mocenni, insegno all'Università di Siena teoria dei giochi, sistemi dinamici e modelli. Mi occupo di modelli matematici. Questa breve lezione vuole essere un'introduzione ai più semplici tipi di modelli matematici dell'epidemia. Cercherò di spiegare come si può descrivere il fenomeno epidemico e quali sono gli indicatori per valutare la gravità del fenomeno epidemico. Quindi la base dei modelli epidemiologici è considerare una popolazione di individui. La popolazione possibilmente deve essere molto grande, al limite anche infinita. Il modello epidemiologico considera l'interazione di due gruppi di individui, individui suscettibili e individui infetti. Gli individui suscettibili sono coloro che possono contrarre la malattia, mentre gli individui infetti sono coloro che hanno già contratto la malattia o che in qualche modo sono in grado di infettare altri individui e nel contesto di questo modello saranno coloro capaci di infettare gli individui suscettibili. Il meccanismo dell'infezione è quello del contatto, quindi si dice che un individuo suscettibile diventa infetto nel momento in cui in qualche modo entra in contatto con un individuo infetto. Il meccanismo è quello di considerare due insiemi, come abbiamo detto, e quindi osserveremo un passaggio di individui da un gruppo all'altro. In particolare nel caso più semplice che stiamo descrivendo in questa breve presentazione si assume che vi possa essere un passaggio dall'insieme degli individui suscettibili all'insieme degli individui infetti e non viceversa, se non introducendo un terzo elemento che vedremo in seguito. Quindi immaginiamo appunto di avere una popolazione distribuita in una certa regione e immaginiamo che vi siano due tipologie di individui, i suscettibili e gli infetti. Nel momento in cui un individuo suscettibile e un individuo infetto vengono a contatto, l'individuo suscettibile diventa infetto a sua volta. Ovviamente tutto questo avverrà con una certa probabilità, quindi innanzitutto dovremmo analizzare con che probabilità due individui si incontrano all'interno del sistema. Nella versione più semplice del modello questa probabilità è la stessa per tutti gli individui, quindi la probabilità che due individui si incontrino nella popolazione è omogenea all'interno della popolazione stessa, ovvero non vi sono dei canali preferenziali per gli incontri fra individui. Non c'è ad esempio una relazione di familiarità, una relazione di amicizia o una relazione di vicinanza per cui alcuni individui avranno una probabilità più elevata di incontrarsi rispetto ad altri. In questi modelli più semplici si assume che la probabilità è la stessa per tutti gli individui e la probabilità inoltre che un individuo passi dall'insieme dei suscettibili all'insieme degli infetti dipenderà dalla numerosità dei due gruppi di individui. Quindi più saranno gli individui suscettibili e più saranno gli individui infetti, maggiore sarà la probabilità che un individuo suscettibile incontri effettivamente un individuo infetto e che quindi passi nella classe degli infetti. la probabilità che due individui, un suscettibile e un infetto, si incontrino non è sufficiente per descrivere effettivamente il passaggio dalla classe dei suscettibili alla classe degli infetti. dovremo anche tener conto di un fattore specifico della malattia, ovvero sia il grado di trasmissione per esempio del patogeno, come ad esempio nel caso del virus ci saranno virus che hanno una maggiore facilità di trasmissione, altri invece che ne avranno una minore. Inoltre il passaggio, la trasformazione di un individuo suscettibile ad infetto dipenderà anche da altri fattori, come per esempio fattori ambientali, il clima e altri fattori. Quindi dovremo anche introdurre un parametro che terrà conto appunto di questi fattori specifici della malattia. Quindi per cominciare appunto a introdurre un pochino il modello matematico, indichiamo con N il numero totale di individui della popolazione, con S il numero di suscettibili e con I il numero di infetti. Quindi se assumiamo che per semplicità non vi sono altre tipologie di individui all'interno della popolazione, avremo che la somma degli individui suscettibili più gli individui infetti sarà uguale al totale degli individui della popolazione. Ora la probabilità di incontro di un individuo suscettibile a un individuo infetto, abbiamo detto, sarà proporzionale alle densità dei due gruppi e potrà essere modellizzata da un punto di vista matematico con il prodotto proprio della densità dei due gruppi, cioè il prodotto del numero di individui suscettibili per il numero di individui infetti. Appunto per rappresentare il fatto che maggiore è il numero di suscettibili e maggiore è il numero di infetti e maggiore sarà la probabilità del loro incontro. Inoltre appunto viene introdotto un parametro che rappresenta il tasso di contagio, questo parametro tipicamente viene indicato con la lettera greca beta e che appunto tiene in conto delle caratteristiche specifiche della patologia e dalle situazioni ambientali in cui si trova la popolazione e ovviamente anche altri fattori, però questi sono i principali. Dunque da un punto di vista matematico il passaggio di un individuo dalla classe dei suscettibili alla classe degli infetti avverrà con una probabilità pari a beta per s per i. Dunque siamo in grado adesso di scrivere la legge matematica che descrive questo meccanismo, quindi avremo un'equazione che descrive il meccanismo di uscita dal gruppo dei suscettibili e un'equazione che descrive invece il meccanismo di entrata nella classe degli infetti. Ovviamente tutto questo avviene durante il tempo, quindi avremo che per esempio il numero di individui della classe dei suscettibili a un certo istante di tempo t sarà uguale al numero di suscettibili al tempo precedente t-1 meno tutti quelli che sono usciti dalla classe degli infetti perché dei suscettibili perché hanno subito il contagio e abbiamo detto che questo numero è dato da beta per s, cioè i suscettibili al tempo t-1 per gli infetti al tempo t-1 e questo termine tiene conto appunto della probabilità che un individuo suscettibile diventi infetto e quindi venga sottratto dalla classe dei suscettibili. Questo è il motivo per cui abbiamo messo questo segno meno qui, cioè c'è una sottrazione di individui suscettibili dalla classe appunto dei suscettibili. Lo stesso termine compare esattamente uguale invece con il segno positivo nell'equazione che descrive la classe degli infetti perché stavolta la classe degli infetti al tempo t dipenderà dal numero di infetti al tempo precedente più eventualmente quelli che sono entrati uscendo dalla classe dei suscettibili. Dovremo inoltre sempre mantenere il vincolo che ci siamo dati e cioè che la somma di s più i sia uguale a n ad ogni istante di tempo. Da questa ultima equazione possiamo fare una semplificazione del modello perché siccome noi assumiamo che s più i è uguale a n, ovviamente possiamo ricavare i o anche s, ma nella fattispecie abbiamo deciso di ricavare i come funzione di s, cioè il numero n è costante, è il numero totale di individui della popolazione, mentre sappiamo che s è una variabile perché varia nel tempo, ma ad ogni istante di tempo dovrà valere quest'uguaglianza, per cui possiamo anche dire che in realtà il numero di suscettibili è descritto dall'equazione sopravista, ma al posto del termine i al tempo t-1 possiamo riscrivere n-s al tempo t-1 e dunque l'equazione dei suscettibili dipenderà solo dalla variabile s e può quindi descrivere il fenomeno. Ovviamente a questa equazione dobbiamo anche aggiungere l'equazione che ci spiega come si muove nel tempo la classe degli infetti e questa si muoverà secondo questa uguaglianza. Ora, se vogliamo osservare nel tempo l'evoluzione dell'epidemia dovremo assegnare dei valori iniziali alle variabili s e i. Ad esempio possiamo ipotizzare nel caso più semplice possibile che ci sia un solo infetto e che tutti gli altri individui siano suscettibili. Quindi diremo che la classe degli infetti al tempo 0 è uguale a 1 e la classe dei suscettibili al tempo 0 è uguale al totale degli individui della popolazione meno 1. Detto questo possiamo simulare utilizzando un semplice software di calcolo ma anche facendo semplicemente delle valutazioni con una calcolatrice cioè a partire da s t-1 dove t-1 è uguale a 0 quindi al tempo t uguale a 1 possiamo sostituire diciamo i valori che abbiamo ipotizzato all'inizio dentro a queste equazioni e quindi potremo calcolare s al tempo 1, s al tempo 2 e così via. Adesso in questa figura io sinteticamente riporto l'andamento nel tempo quindi vedete in questo asse riporto l'asse dei tempi in questo asse invece vengono riportate le due variabili s ed i. Allora s è rappresentata dalla curva blu e al tempo 0 è composta da 99 individui mentre la classe degli infetti al tempo 0 è composta da un solo individuo. Si vede benissimo che assumendo anche un tasso di contagio molto basso dell'ordine di 5 alla meno 3 e per 10 alla meno 3 quindi un millesimo la dinamica diciamo di questi individui infetti è molto rapida e dopo pochi istanti di tempo poche unità temporali che possono essere giorni raggiunge o settimane raggiunge il valore totale il valore massimo il che significa che tutti gli individui suscettibili sono pian pianino passati e sono nella classe degli individui infetti e dunque hanno contratto la malattia. Quindi come vedete in questo caso c'è uno svuotamento dell'insieme dei suscettibili e un riempimento invece degli insieme degli infetti. Possiamo guardare anche velocemente i numeri che otteniamo appunto effettuando questo semplice calcolo. Qui nella prima colonna riporto i tempi, nella seconda colonna riporto l'insieme dei suscettibili ad ogni istante di tempo e nella terza l'insieme degli infetti negli stessi istanti di tempo. Ora come vedete per esempio la classe degli infetti che parte da valori molto bassi uno, un solo infetto, molto rapidamente raddoppia, triplica e cresce in maniera molto importante fino per esempio a raggiungere il valore di 66 dopo solo 13 iterazioni. Quindi il meccanismo diciamo dell'infezione è un meccanismo che quando parte è molto veloce, ok? Cioè risponde ad una legge matematica, la biologia risponde ad una legge che matematicamente può essere rappresentata appunto in questo modo, cioè una legge di evoluzione molto veloce, sebbene i parametri che abbiamo scelto possono essere anche bassi. Ora come vedete in questo grafico appunto i numeri crescono rapidamente e noi abbiamo diciamo ipotizzato di avere in realtà una popolazione anche abbastanza piccola, composta soltanto da 100 individui. Quindi immaginiamo che in una situazione reale questo numero possa essere anche molto più grande. Quindi per evitare diciamo di dover riportare nei nostri grafici o nei nostri calcoli dei numeri eccessivamente elevati, possiamo effettuare un processo di normalizzazione, cioè possiamo decidere che piuttosto che osservare il numero assoluto di individui suscettibili e infetti, possiamo osservare invece la loro percentuale in rapporto all'intera popolazione e questo lo possiamo fare semplicemente dividendo le due variabili di cui prima per il numero totale di individui della popolazione e cioè n. In questo modo otterremo delle nuove variabili normalizzate S piccolo e I piccolo che stavolta assumeranno dei valori che si trovano ad essere maggiori di 0 e minori di 1, cioè S piccolo al massimo sarà 1 quando? Sarà 1 quando tutti gli individui sono suscettibili e lo stesso vale per la variabile I assumerà il valore 1 quando tutti, cioè il 100% degli individui della popolazione assume, appartiene alla classe degli infetti. Dovremo, diciamo, e in questo modo ci riconduciamo ad avere, ad osservare delle variabili che si trovano ad essere sempre inserite all'interno dell'intervallo 0,1. Ovviamente dovrà valere anche per queste classi di popolazione normalizzate il vincolo per cui la loro somma deve essere uguale a un valore massimo e stavolta questo valore massimo sarà proprio 1, cioè n diviso n. Il modello semplificato in questo modo funziona esattamente come l'altro, soltanto vedete in questo caso l'asse delle ordinate dove riportiamo i valori di S e I nel tempo è l'intervallo appunto 0,1. In questo caso abbiamo detto che soltanto l'1% degli individui della popolazione era infetto e il 99% era suscettibile e vediamo che appunto anche in questo caso in tempi molto rapidi, sebbene abbiamo scelto un tasso di contagio basso, produce lo stesso meccanismo di trasferimento degli individui dalla classe dei suscettibili alla classe degli infetti. Ora, in realtà, diciamo, questo modello è a fin troppo semplificato, perché in realtà noi sappiamo che in un qualunque fenomeno epidemico abbiamo anche gli individui che guariscono o sfortunatamente, diciamo, che muoiono. Quindi per tener conto anche di questo meccanismo introduciamo anche una nuova classe di individui, un nuovo insieme di individui che chiameremo rimossi. Gli individui rimossi sono quelli che per varie ragioni escono stavolta dal gruppo degli infetti e entrano appunto nel gruppo dei rimossi. Il meccanismo con cui viene modellizzato il trasferimento stavolta dalla classe degli infetti alla classe dei rimossi è un meccanismo diciamo di uscita naturale, cioè noi diciamo che ci sarà comunque una certa percentuale di individui che nell'unità di tempo guarisce o muore. Quindi avremo che il termine che modellizzerà la fuoriuscita degli individui rimossi dalla classe degli infetti sarà il prodotto di un certo tasso di rimozione gamma per la densità degli individui infetti. Quindi nella versione normale sarà gamma per i, nella versione normalizzata sarà gamma per i piccolo. Dobbiamo però aggiungere al vincolo che abbiamo visto in precedenza, cioè che la somma di tutte le classi che stiamo considerando sia uguale al numero totale di individui della popolazione anche in questo caso e quindi diremo che s più i più r è uguale a n. Nella versione normalizzata diremo che s piccolo più i piccolo più r piccolo deve essere uguale a 1. Da ciò possiamo ricavare una delle tre variabili, in questo caso possiamo ricavare la variabile dei rimossi r come differenza tra 1 e la classe dei suscettibili e la classe degli infetti. Dunque adesso avendo aggiunto una nuova variabile avremo che il nostro modello cresce di un'equazione perché dovremo anche scrivere l'equazione che descrive l'evoluzione della variabile r. ora poiché diciamo la prima equazione rimane uguale a prima, cioè non c'è un passaggio diretto da suscettibili a rimossi perché questo non avrebbe neanche tanto senso, il suscettibile per diventare rimosso dovrà prima essere stato infettato, quindi dovrà prima accedere alla classe degli infetti e solo in un secondo momento dopo un certo tempo potrà appunto essere rimosso dalla classe degli infetti ed entrare nella classe dei rimossi. Quindi l'equazione dei suscettibili è invariata. L'equazione degli infetti invece che ha gli stessi primi due termini semplicemente dovrà essere integrata con un nuovo termine, cioè dovrà essere aggiunto un termine che avrà un segno negativo perché rappresenta la rimozione di individui da quel gruppo e sarà esattamente uguale a gamma per i al tempo t-1. Quindi al tempo t la classe degli infetti avrà non solo, dipenderà non solo dal valore che aveva al tempo precedente più tutti quelli che si sono infettati al tempo precedente, ma vedrà anche una sottrazione di individui che dipenderà da quanti infetti ci sono presenti nel sistema al tempo precedente. La variabile r diciamo sarebbe stata modellata con un termine che è esattamente uguale a questo che viene sottratto dalla classe degli infetti ma con il segno positivo, ma come abbiamo detto in realtà è più semplice per noi ottenere la variabile r come differenza tra il numero totale di individui e i suscettibili più gli infetti. Nella versione normalizzata il modello è esattamente lo stesso ma adesso le variabili vengono indicate con la lettera minuscola a indicare che piuttosto che essere dei numeri di individui sono delle percentuali di individui all'interno della popolazione. Bene, adesso facciamo una simulazione del nuovo modello che prende il nome di modello SIR, S-I-R, suscettibili infetti rimossi. Allora noi rappresentiamo con il colore blu come prima la classe degli individui suscettibili, con il colore rosso come prima la classe degli individui infetti e con il colore verde che è nuovo la classe invece degli individui rimossi. Ora diciamo anche in questo caso dovremo decidere per osservare la soluzione qual è il numero totale di individui della popolazione, qual è il numero iniziale di individui suscettibili, il numero iniziale di individui infetti e il numero iniziale di individui rimossi. Ora il numero iniziale di individui rimossi sarà sempre zero perché non ci saranno individui rimossi fin tanto che non c'è stato almeno un infetto, quindi la classe dei rimossi al tempo zero assumerà sempre valore zero. Mentre dovremo avere almeno un individuo infetto, il restante gruppo di individui potrà essere appunto appartenere alla classe dei suscettibili. I parametri sono diventati due e ovviamente per effettuare una simulazione, cioè per effettuare un run del modello, ovvero sia calcolare a partire da certe condizioni iniziali l'evoluzione nel tempo del nostro sistema, avremo bisogno anche di assegnare dei valori numerici ai parametri presenti nell'equazione e cioè nella fattispecie il parametro beta che rappresenta il tasso di passaggio verso la classe degli infetti e il parametro gamma che rappresenta invece il tasso di passaggio nella classe dei rimossi. Ora come potete osservare in questo grafico la classe dei suscettibili, il gruppo dei suscettibili tende comunque a zero. La classe degli infetti invece inizialmente cresce molto rapidamente come osservavamo anche nel caso del modello precedente in assenza dei rimossi, raggiunge un valore massimo a un certo istante di tempo e successivamente comincia a decadere, a diminuire fino ad arrivare nuovamente ad assumere un valore zero. La classe invece dei rimossi che inizialmente appunto è zero, crescerà e tenderà poi a coprire l'intero insieme di individui della popolazione. Cioè coloro che inizialmente erano suscettibili sono stati infettati, sono guariti o morti e adesso vanno a costituire il gruppo degli individui rimossi. Ma se noi cambiamo i parametri del modello, vedete per esempio nel primo caso io ho assunto che beta era uguale a 0,8 e gamma era uguale a 0,2. Nel secondo caso ho ridotto di una unità di grandezza, cioè ho diviso per 10 il valore di beta, mentre gamma l'ho lasciato invariato. Quindi che cosa osserviamo adesso? Che se riduciamo in maniera significativa? Il tasso di contagio beta vediamo che il sistema ha un'evoluzione leggermente diversa da prima. Per esempio in questo caso la classe degli infetti che necessariamente dovremmo assumere essere un pochino più ingente rispetto a quanto assumevamo prima, per esempio il 20% di individui, in stavolta invece che crescere e diminuire diminuirà semplicemente e tenderà a 0. Il motivo per cui non lo posso far partire da un valore troppo basso è che poi graficamente non riusciamo ad osservare le variazioni. Ma se io avessi assunto un valore iniziale di infetti pari a 1, come avevamo fatto in precedenza, avremmo semplicemente osservato che questo 1 dopo un certo tempo tende a 0. Quindi guarisce in qualche modo o purtroppo muore. Invece la classe dei suscettibili, di nuovo rappresentata in blu, che inizialmente è pari all'80%, ricordiamoci sempre che la somma delle tre classi, cioè rimossi più infetti più suscettibili deve essere uguale a 1 nel caso del modello normalizzato, quindi se assumiamo di avere il 20% di infetti dovremmo avere l'80% di suscettibili. Questi suscettibili diminuiscono, perché diminuiscono? Perché man mano che passano nella classe degli infetti questi guariscono e entrano nella classe dei rimossi, per cui c'è una parte comunque di individui suscettibili che contrae l'infezione. Sebbene questa parte non determini un incremento visibile, un incremento significativo nella classe degli infetti, ma comunque c'è sempre un passaggio dalla classe dei suscettibili alla classe degli infetti che poi successivamente guarisce e quindi entra nella classe dei rimossi. Osserviamo, vi faccio notare anche che in questo caso diciamo che la classe dei suscettibili non arriva fino a 0, ma si ferma a un valore quindi del 70%, quindi in qualche modo quello che osserviamo in questo caso è che il 10% della popolazione si è in qualche modo infettata, ma rapidamente è guarita ed ha semplicemente ridotto il numero di individui della classe dei suscettibili perché questi sono entrati a far parte della classe dei rimossi. Quindi abbiamo osservato in realtà due situazioni molto diverse, cioè nel primo caso avevamo una crescita rapida degli infetti fino a raggiungere un picco massimo e poi una loro diminuzione. Nel secondo caso invece gli infetti semplicemente diminuiscono. inoltre nel primo caso avevamo che la curva dei suscettibili tendeva a 0, tendeva a raggiungere valori molto piccoli, mentre nel secondo caso la classe dei suscettibili tende a un valore diverso da 0 o comunque anche grande. E questo perché? E questo perché in realtà appunto il sistema presenta degli stati stazionari. Gli stati stazionari sono degli stati in cui non c'è più variazione delle variabili, cioè le variabili diventano costanti, come se non ci fosse più un movimento, come se la dinamica si fosse arrestata. E questo accade quando appunto le variabili in gioco del nostro sistema sono uguali a istanti di tempo diversi, cioè se all'istante di tempo t, per esempio, la variabile s assume valore uguale alla variabile s al tempo t-1 e così deve valere per tutte le variabili in gioco. Ora, se noi riguardiamo come sono le equazioni del nostro modello, abbiamo che assumere questo, vi rimetto un attimo le equazioni. Vedete, se io assumo che s di t sia uguale a s di t-1, posso semplificarle a sinistra e a destra di questa eguaglianza e mi rimane semplicemente questo termine uguale a 0. Lo stesso vale per l'equazione successiva e così via. Dunque, assumere che il sistema abbia raggiunto lo stato stazionario, cioè abbia raggiunto un valore dal quale poi non si discosta più, equivale a dire che questo termine, cioè meno beta per s per i è uguale a 0, che è il termine che ricaviamo dall'equazione dei suscettibili, e invece il termine beta per s per i meno gamma per i è uguale a 0, che ricaviamo dall'equazione degli infetti. Dalla seconda possiamo raccogliere i di t, e quindi possiamo scrivere che questa equazione è uguale a i di t che moltiplica beta per s di t meno gamma, e tutto questo deve essere uguale a 0. Ora, poiché notiamo che la variabile i compare in entrambe queste equazioni, sicuramente i uguale a 0 è una componente dello stato stazionario, perché i uguale a 0 annulla entrambi queste uguaglianze, ma questo avviene indipendentemente dal valore che assume s, cioè se i è uguale a 0, allora qualunque valore assuma l'insieme dei suscettibili, l'uguaglianza è verificata. Quindi gli stati stazionari di questo sistema saranno i star uguale a 0, quindi questo significa che la classe degli infetti o prima o dopo raggiungerà il valore 0. Mentre lo stato stazionario, la componente dello stato stazionario per quanto riguarda la classe dei suscettibili, sarà uguale a un qualunque valore s che la classe stessa dei suscettibili può assumere. Il suo complemento a 1 sarà invece la componente dello stato stazionario che corrisponde al valore della classe dei rimossi. Quindi questa cosa ci dice che mentre i necessariamente allo stato stazionario sarà uguale a 0, le due variabili s ed r possono assumere valori diversi da 0. Ora, nel caso in cui appunto la classe degli infetti raggiunga 0, abbiamo visto che si possono osservare due casi. Il primo caso è che gli infetti tendano a 0 decrescendo sempre, che era il secondo esempio che abbiamo visto. Un altro caso invece è che gli infetti tendano a 0 dopo aver raggiunto un picco di contagio, cioè dopo aver raggiunto un valore massimo degli infetti. Questo picco di contagio avverrà per un certo valore s tilde dei suscettibili che è pari a gamma su beta. Questo lo si vede facilmente perché il valore s uguale gamma su beta annulla questo termine. Questo termine in realtà è, diciamo, quando si annulla questo termine la variazione della classe degli infetti non c'è più, quindi in qualche modo è un valore stazionario per la classe degli infetti, ma non essendo valore stazionario anche per la classe dei suscettibili, in realtà non è un vero e proprio stato stazionario. Rappresenta semplicemente il valore per cui la classe degli infetti raggiunge il suo picco massimo. Quindi esisterà un istante di tempo in cui s tilde raggiunge questo valore e questo istante di tempo è esattamente quello in cui la classe degli infetti ha raggiunto il suo picco massimo. Quindi per valutare in quale delle due situazioni ci troviamo, cioè possiamo introdurre un parametro, un indicatore che ci consenta immediatamente di dire se siamo nel caso 1, cioè infetti che tendano a 0 decrescendo sempre o nel caso 2 infetti che tendono a 0 ma dopo aver avuto un picco di contagio? Ebbene sì, questo parametro si chiama soglia epidemica e viene indicato con la lettera R0 ed è esattamente il rapporto fra il tasso di contagio beta e il tasso di rimozione gamma. Quindi qualora questo valore R0 sia minore di 1, allora vuol dire che il tasso di rimozione gamma è maggiore del tasso di contagio beta e quindi non ci sarà pandemia, cioè guariranno più persone di quante non si infettino nell'unità di tempo. Viceversa se R0 è maggiore di 1, allora il tasso di rimozione è inferiore al tasso di contagio e quindi ci sarà un numero ingente di individui della popolazione che contrarrà la patologia. In questo caso si parla di pandemia, quindi il parametro R0 è come uno spartiacque fra situazioni in cui non c'è pandemia e invece situazioni in cui c'è pandemia. E questa soglia critica per cui c'è o non c'è la pandemia è proprio R0 uguale a 1. Dunque questo modello matematico in realtà se uno approfondisce un pochino il significato dei parametri e della struttura matematica delle equazioni ci dà alcune indicazioni che possono essere importanti per contenere l'epidemia. Una cosa per esempio immediata è cercare di tenere basso il valore di R0, quindi di tenerlo sotto a 1. Per tenere questo R0 sotto a 1 possiamo fare due cose, o cercare di ridurre il tasso di contagio beta, quindi insegnare alla popolazione alcune pratiche igienico-sanitarie che riducono la probabilità di contatto. Utilizzo appunto di strumenti che proteggono e che impediscono il passaggio del virus per esempio del patogeno agli altri, ma anche appunto il distanziamento sociale, cioè ridurre la probabilità degli incontri. Oppure possiamo aumentare il tasso di rimozione gamma, cioè per esempio migliorare le terapie, rafforzare le strutture sanitarie, cioè tutto quello che può favorire la guarigione o comunque il passaggio dalla classe degli infetti alla classe dei rimossi. Guardando invece la struttura delle equazioni matematiche del modello, la probabilità che un individuo infetto venga a contatto con un individuo suscettibile può essere fatto applicando delle politiche di distanziamento sociale, come abbiamo visto. Inoltre possiamo cercare semplicemente di ridurre il numero dei suscettibili. Per ridurre il numero dei suscettibili un modo è quello di vaccinare la popolazione, perché un individuo vaccinato che ha fatto un vaccino non è più suscettibile e non è neanche infetto. Quindi non può entrare né nella classe dei suscettibili né nella classe degli infetti, va direttamente nella classe dei rimossi. Quindi la vaccinazione della popolazione serve a ridurre appunto il numero di individui suscettibili e concorre alla formazione di quel meccanismo immunitario che nel modello è alla base, perché come avete visto dalla classe degli infetti si esce per rimozione e si va nella classe dei rimossi, ma dalla classe dei rimossi non si può tornare più nella classe dei suscettibili. Questo significa che una volta che il virus è stato contratto e una volta che l'individuo è guarito, non può nuovamente ammalarsi, il che significa che si è immunizzato. Quindi vaccinare la popolazione corrisponde in qualche modo a immunizzarla. Io con questo ho concluso, vi ringrazio dell'ascolto. Ovviamente se avete voglia di approfondire questo tipo di argomenti potete contattarmi. Io ripeto sono Chiara Mocenni e lavoro all'Università di Siena e mi occupo di modelli matematici. Vi ringrazio, buonasera.